In 34 anni ha prodotto decine di affermati interpreti della tradizione rossiniana e non solo. L'Accademia Rossiniana, intitolata da Alberto Zedda, ha avviato questa mattina le lezioni del suo consueto seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche connesse alla restituzione rossiniana e allo sviluppo dell'edizione critica. Al Teatro Sperimentale, prima apparizione dei nuovi 19 allievi per altrettante borse di studio assegnate quest'anno anche grazie alla novità di un partner d'eccezione come la Fondazione Meuccia Severi. Contentissimi di annoverare un nuovo sponsor per l'Accademia. L'Accademia ha avuto in passato un solo sponsor ed era straniero, Peter Murs. Invece questa volta è locale, di Pesaro e la cosa ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. La Fondazione Meuccia Severi nasce come una fondazione con lo spirito e l'intento di sostenere eventi, manifestazioni artistico-culturali prevalentemente del territorio a cui si aggiunge anche il focus particolare sul mondo della formazione giovanile. Quindi dall'incontro con lo staff dell'Accademia Rossignana il passo è stato brevissimo a collegare il nostro nome e il nostro sostegno a un'istituzione così importante della città e benemerita, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questo è il motivo principale. Da oggi dunque parte il superlavoro di 19 allievi provenienti da Kazzakistan, Russia, Spagna, Colombia, Armenia, Polonia, Germania, Cina e Italia che saranno seguiti dalla Masterclass di Ernesto Palassio con il coordinamento musicale di Ruben Sanchez Vieco e la collaborazione del vocal coach Luca Canonici, dei registi Ugo Deana, Rosetta Cucchi, Alfonso Antoniozzi, dei musicologi Federico Agostinelli e Marco Beghelli, del fisiatra Frank Musarra e del foniatra Franco Fussi. Prevista anche una Masterclass del cantante Nicola Laimo. I ragazzi sono sempre 19, sono 19 le borse di studio, a dire la verità sono 18 più uno scambio come il Borshoi ma quest'anno lo scambio non si è potuto portare avanti per ovvie ragioni ma diciamo abbiamo dato la diciannovesima borse di studio a questi ragazzi e poi ci sono anche gli uditori che sono parecchi per cui insomma ci sarà da lavorare. Via dunque alla formazione che il 18 luglio porterà sia il concerto finale allo sperimentale sia il consueto viaggio a Reims nel programma del Rossini Opera Festival previsto fra il 13 e il 15 agosto. Accademia che sarà anche protagonista di una serie di concerti al Museo Nazionale Rossini e nei Salon Rossini previsti nei borghi di San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Gradara.